Musica Benvenuti su Turismo Peschiera, oggi andremo a scavare in qualcosa di un po' più profondo della semplice storia di Peschiera, nelle sue tradizioni, nel suo cuore più remoto, prendendo come spunto un proverbio, un proverbio che è tipicamente a rilicense, non si può trovare e non avrebbe senso in nessun'altra parte del nostro lago di Garda. Il proverbio recita, quando ribatti è il temporalon, se spaventa anche al filon. Detto così, sembrano parole al vento, sembra che non dicano nulla, non hanno un senso, invece per gli abitanti di Peschiera il senso c'è. E qual è? Stando a sud del lago di Garda, durante i temporali estivi, quando il temporale si sposta, ovvero ribatte, dalla sponda orientale a quella occidentale e viceversa, vorrà dire che a Peschiera non arriverà tempesta. Questo, come si interpreta queste parole? Ovvero, quando ribatti il temporalon, ovvero quando il temporale passa da una costa all'altra e ritorna, se spaventa anche al filon. Chi è e che cos'è il filon? Il filon è il personaggio di paese, l'uomo da osteria, l'uomo da bar, l'uomo che è seduto, intrattiene le persone, normalmente raccontando storie particolarmente piene di umorismo, se non addirittura delle fandonie. Il filon è quello che sa tutto lui, che è bravo solo lui, che ne conosce uno più degli altri. Si spaventa perché? Perché lui dice, guarda, sta arrivando un temporale, farà un disastro, romperà tutto, verrà la grandine e invece questo non accade. Quindi lui si spaventa perché ha raccontato l'ennesima fandonia. Grazie a tutti.